cari amici prima di darvi la consueta informazione sulla situazione dell'epidemia nella nostra regione sulle iniziative che sono in corso da parte nostra vorrei farvi due considerazioni di carattere generale una che riguarda il sistema della comunicazione il mondo della comunicazione scritta televisiva social e un'altra considerazione relativa alle scelte fatte dal governo in queste settimane e per ultimo con il decreto che ha suscitato tensioni polemiche dissensi siamo come del tutto evidente entrati in una fase estremamente grave nella vita del paese una fase che richiederebbe da parte di tutte le componenti della vita pubblica senso di responsabilità e spirito unitario come del tutto evidente è esattamente il contrario di quello che sta succedendo oggi in italia tensioni polemiche lacerazioni e spinte alla demagogia abbiamo avuto in queste settimane organi di informazione scritta televisiva che hanno fatto un lavoro importante di informazione di approfondimento ma abbiamo avuto anche tantissimi organi che si sono abbandonati ad operazioni indegne di demagogia di falsamento della realtà di polemiche gratuite di di ricerca permanente di folclore è una cosa francamente intollerabile abbiamo assistito a servizi televisivi con persone mascherate sembrava di stare in afghanistan la libertà di opinione qui ognuno parla e straparla quando vuole evidentemente chi va in giro mascherato è perché è un cialtrone che sa di dire stupidaggi gente mascherata abbiamo avuto amplificazioni di problemi o occultamento di altre realtà piccoli episodi trasformati in episodi di carattere generale abbiamo assistito ad interviste mirate ci è capitato di ascoltare sindaci che sono delle autentiche nullità delle autentiche nullità che hanno per anni abbandonato a se stesse le loro città che non hanno alzato un dito per mettere ordine nella movida ed aiutare a contrastare la diffusione del virus che non hanno cacciato un euro per i commercianti gli artigiani le famiglie con disabili gli operatori turistici i tassisti un euro e ci siamo ritrovati queste autentiche nullità a parlare per fare polemica con qualcuno è incredibile è incredibile gente che in qualunque altro paese civile del mondo sarebbe stata affidata ai servizi sociali già da anni ci è capitato di assistere ad alcuni episodi vi voglio ricordare solo qualche episodio simbolico per farvi capire di che cosa sto parlando come sapete abbiamo chiuso per primi in italia le scuole mi correggo non abbiamo chiuso le scuole abbiamo bloccato la didattica in presenza ma l'organizzazione scolastica la fanno i dirigenti scolastici non la regione a fronte di dati drammatici del contagio nel mondo scolastico che avevamo abbiamo preso quella decisione mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma che di fronte ai dati del contagio avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini a scuola comunque tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina con una bella mascherina di tendenza gli occhi ridenti e fuggitivi la domanda del giornalista lei che cosa dice per la chiusura delle scuole risposta la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto mamma io voglio andare a scuola per imparare a scrivere credo sia l'unica bambina d'italia che piange per andare a scuola è l'unica bambina al mondo che dà pure la motivazione perché voglio imparare a scrivere perché mi manca la grammatica e la sintassi mi mancano gli endecasillabi cioè questa povera figlia evidentemente è uno gm cresciuta dalla mamma con latte al plutonio l'unica al mondo è stata trovata da quest'intervistatore ma mica ha chiesto alla mamma senti con 400 contagi nel mondo della scuola tu che pensi che si debba fare devi portare la bambina abbiamo avuto un altro episodio che ha riguardato un giornalista importante che io stimo molto massimo giannini mi capita di leggere un'intervista del direttore giannini e giannini si rivolge a me e mi dice de luca si preoccupi degli scandali del cardarelli del loreto mare del san giovanni bosco essendo una persona che stimo mi sono permesso di chiamarlo a casa e di chiedergli caro direttore mi vuole spiegare cortesemente quali sono questi scandali di cui parla e giannini ripeto una persona di grande valore anche di qualità dal punto di vista professionale mi dice ma per la verità io mi riferivo ad un servizio televisivo che avevo visto probabilmente quello con i mascherati con il burk cioè siamo arrivati a un punto tale nello scivolamento verso la demagogia che anche persone di grande qualità si lasciano trasportare sul sentito dire sulle cose lette distrattamente è incredibile un altro servizio televisivo presenta immagini di dieci giorni prima questa è una rete del servizio pubblico una rete nelle quali si fanno le trasmissioni avendo la presenza di cavernicoli gente vestita con le pelli di capra ormai il livello di volgarità a cui siamo arrivati in italia non ha più limiti prendono le immagini di dieci giorni prima riprese in un ufficio del 118 per poter dire c'è un dramma qui non c'è neanche un posto per il 118 abbiamo spiegato nelle scorse settimane che le reti sono regionali e se tu vai a fare la domanda in un ospedale o in un ufficio probabilmente sicuramente quel responsabile quel funzionario non ha il quadro generale della situazione pur di dimostrare che c'era la tragedia non c'era più un posto le immagini di dieci giorni prima ritrasmesse dopo ora è evidente che quando si è di fronte alle tragedie emerge il meglio e il peggio di un paese l'italia di oggi non fa eccezione sta emergendo in questo momento il meglio e il peggio dell'italia il meglio abbiamo responsabili sanitari abbiamo un personale medico abbiamo un personale amministrativo abbiamo infermieri abbiamo tecnici di laboratori che stanno lavorando al limite delle proprie forze fisiche e abbiamo gente che trova il tempo per fare sceneggiate demagogia non si è colto il senso della tragedia che incombe sul nostro paese in relazione in relazione al sistema della comunicazione vorrei suggerirvi in conclusione una lettura come sapete papa francesco ha pubblicato l'ultima enciclica fratelli tutti in questa enciclica c'è un capitolo intitolato l'illusione della comunicazione dove il papa il papa fa delle considerazioni di grandissima lucidità con un linguaggio semplice ma di grandissima lucidità sul sistema della comunicazione in generale ma ma alcune cose scritte sembrano appropriate per i tanti pollai televisivi nei quali non si capisce niente e si fanno solo polemiche inutili dice il papa nei capitoli nei paragrafi che vanno dal 42 al paragrafo 50 vedete credo che su internet ci sia l'enciclica fa rilevare il papa che si è perduto ormai il diritto all'intimità cioè un mondo che è perduto nell'individualismo più sfrenato poi quando si tratta della vita degli altri è pronto ad esercitare la violenza più ignobile calpestando l'intimità privata familiare la vita delle persone poi osserva il papa che le ideologie hanno perso ogni pudore come dire la politica ha perso ogni dignità nel linguaggio nel senso di responsabilità e poi nei paragrafi credo 48 49 fa delle osservazioni sulla incapacità del silenzio dell'ascolto sulla incapacità di fare un dialogo perché appena una persona parla dopo dieci secondi viene interrotta gli si fa un'altra domanda prima ancora che quella persona abbia espresso il pensiero leggete queste parole e pensate a tanti servizi degli organi di informazione che servono non al dialogo non a capire il nucleo di verità che ha un interrogatore non a capire la realtà oggettiva come base di qualunque dibattito ma servono solo a esprimere un narcisismo o pollai inutili vale la pena in periodi come questo anche di respirare qualche pensiero più di fondo come quelli che ci vengono proposti da questo papa straordinario un'enciclica bellissima la parte sull'amore sociale la poesia sociale ovviamente più più delicata e più tormentata il papa fa il papa ma quelle pagine che vi ho riferito sono di una lucidità impressionante leggete il governo ora vediamo di capirci il governo è in una situazione difficilissima in tutto il mondo i governi sono situazioni difficilissime la francia sta prendendo decisioni drastiche la germania sta prendendo decisioni drastiche la gran bretagna e dunque dobbiamo sempre partire da questa consapevolezza abbiamo di fronte problemi enormi e nove volte su dieci chi parla non ha soluzioni alternative da proporre parla e basta e in un paese come l'italia i principali responsabili sono a volte quelli che dall'opposizione hanno assunto nei mesi passati più demagogiche più irresponsabili dall'uso della mascherina mai fatto alla diffusione di idee campate in aria era tutto risolto apriamo l'economia a quelli che ancora 40 giorni fa ricordo un esponente della lega 40 giorni fa in piena campagna elettorale qui per le regionali andava in giro negli ospedali della campagna per fare demagogia per dire che avevamo aperto posti letto di terapia intensiva negli ospedali modulari ed erano vuoti 40 giorni fa una vergogna dunque avremmo bisogno anche di sostenere il governo ma abbiamo anche la necessità il dovere di parlare chiaro anche nei confronti di errori gravi che ha fatto il governo che ha fatto il governo e che continua a fare ora il mio rilievo critico al governo è questo primo fortissimi ritardi nelle decisioni ancora oggi decisioni fatte con la logica del mezzo mezzo che è la logica che scontenta tutti quanti e che non serve a risolvere i problemi sottovalutazione grave della pesantezza dell'epidemia oggi e quindi tempi di decisione che sono incompatibili con la gravità dell'epidemia questa è una critica forte che faccio al governo che sta continuando a perdere tempo prezioso facendo accumulare migliaia di contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero del nostro paese c'è da criticare da parte mia la mancanza di come dire rigore quando il governo fa una decisione prende una decisione che rende obbligatorio l'uso della mascherina dopo le 18 e poi non fa nulla per far rispettare questa ordinanza è un governo che sbaglia e aggrava i problemi sul mondo della scuola io considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno nessun rapporto con il livello dell'epidemia non si può ascoltare un ministro della pubblica istruzione che continua a ripetere a pappagallo noi dobbiamo tenere aperto che cosa quando hai realtà scolastiche nelle quali registri centinaia di contagi ma come si fa a ripetere frasi fatte come sapete abbiamo preso per primi delle decisioni relative alla scuola mi hanno messo in croce decisioni gravissime adesso stanno decidendo tutti quanti di prendere queste misure ovviamente per ultimo il collega Emiliano ma è evidente quando hai dati di contagio che sono drammatici la ministra ci dice ma se non vanno a scuola vanno in mezzo alle strade non si possono ascoltare queste cose in mezzo alle strade i ragazzi c'erano a giugno, luglio, agosto, settembre non c'era questa esplosione di contagio come bisogna dirlo a questa cosa? la cosa più grave come vettori di contagio sono proprio i bambini più piccoli come abbiamo verificato per una indagine epidemiologica che abbiamo fatto qui in Campania relativa al mondo della scuola perché i bambini più piccoli della fascia 0-5 anni sono asintomatici ma sono vettori terribilmente efficaci di contagio nelle famiglie 0-5 anni e continuiamo a perdere tempo la cosa più grave che io rilevo a carico del governo è che non si è definito un piano di aiuti socio-economici di medio respiro ma si può immaginare di prendere misure socio-economiche a un mese noi il problema lo avremo davanti per i prossimi sei mesi è così che dobbiamo cominciare a ragionare e quindi dobbiamo fare le cose che dobbiamo fare per i prossimi sei mesi di aiuto alle categorie economiche l'ultima stupidaggine che ho sentito riguarda la chiusura di territori interi si è parlato di Milano-Napoli nessuno si permetta di immaginare misure mezze-mezze per il livello di gravità a cui è arrivato oggi il contagio le uniche misure non solo serie ma efficaci sono misure di carattere nazionale il resto è tempo perso voglio anche chiarire che vi sono regioni nelle quali la percentuale di contagi è enormemente superiore alle aree metropolitane ci sono regioni più piccole che hanno una percentuale di contagi enormemente più alta di quella che abbiamo a Napoli dove è già alta ovviamente allora nessuno dica oggi stupidaggini le uniche misure che possono essere efficaci sono misure di carattere nazionale il resto sono cose intollerabili allora come per il mondo della scuola mi auguro che si facciano cose concrete l'unica cosa concreta che andava fatta per la scuola era l'estensione del congedo parentale cioè consentire alle mamme soprattutto dove sono bambini che vanno all'asilo di poter tenere i propri bambini a casa avendo il congedo parentale e estendendo il lavoro da casa il lavoro da casa credo che abbiano preso in queste ore questa decisione andava presa un mese fa allora oggi la situazione si è enormemente aggravata per i ritardi che ha avuto il governo anche per i ritardi che ha avuto il governo e che continua ad avere si è detto con il massimo rispetto mi è capitato di ascoltare qualche qualche comunicazione di esponenti del governo ho avuto la sensazione di ascoltare voi ricorderete Don Ferrante diciamo nei Promessi Sposi Don Ferrante di fronte alla peste che portava la morte per migliaia di persone strologava sugli accidenti e le sostanze le cose sono sostanze o accidenti e si impegnava in questa sua riflessione a dimostrare che non essendo la peste né sostanza né accidente non esisteva a volte ho la sensazione di ascoltare queste strologherie quando parla qualche esponente del governo anche autorevolissimo vediamo di decidere subito perché ogni ora perduta non ogni settimana ogni ora perduta sono migliaia di contagi in più e in una situazione che è enormemente più difficile rispetto a febbraio marzo per le ragioni che abbiamo detto più volte almeno io le ho dette più volte la situazione sarà più grave perché andiamo incontro all'inverno perché abbiamo le scuole aperte e perché abbiamo l'epidemia influenzale che è alle porte è inevitabile che ci sia una situazione di gran lunga più grave vi dirò fra un attimo quali sono le percentuali di contagio che avevamo in Campania a marzo e che abbiamo oggi mentre sto parlando la regione allora noi come sapete abbiamo detto alcune cose un mese fa abbiamo fatto alcune cose soprattutto per la scuola prima abbiamo fatto cose che non hanno fatto in altre parti d'Italia quando si è deciso di aprire l'anno scolastico ci siamo preoccupati di dare 3.000 euro ai direttori scolastici per comprare i termoscanner perché anche qui il governo ha deciso una cosa francamente demenziale la temperatura si misura a casa la mattina lasciamo perdere abbiamo cercato di dare una mano abbiamo ritardato l'apertura abbiamo fatto lo screening sierologico al 92% del personale scolastico a fronte di una media del 60% nazionale abbiamo fatto di tutto per creare condizioni migliori di sicurezza poi abbiamo deciso prima di tutti perché avevamo quei dati che vi ho detto di bloccare la didattica dentro le scuole e di spostarla a distanza abbiamo fatto un'ordinanza il 24 settembre che rendeva obbligatorio l'uso della mascherina sempre anche fuori di casa una delle responsabilità del governo nazionale di non aver predisposto un piano nazionale per la sicurezza e per il rispetto delle ordinanze ovviamente avessimo deciso almeno questa cosa a inizio settembre obbligo sempre della mascherina e avessimo impegnato l'80% delle forze dell'ordine a garantire il rispetto di questa ordinanza avremmo forse una situazione migliore abbiamo cercato cioè di anticipare tutto quello che era possibile abbiamo reso obbligatorio in Campania il 12 agosto il tampone o l'isolamento domiciliare per chi tornava dall'estero non avessimo fatto queste cose oggi la Campania avrebbe il doppio dei contagi qualcuno mi ha chiesto non a me ha chiesto in generale che cosa è stato fatto in questi mesi rispondo per me abbiamo raddoppiato i posti delle terapie intensive in Campania abbiamo realizzato in tre settimane un ospedale modulare con 120 poste di terapie intensive mentre altri si divertivano a fare esposti alla magistratura e polemiche pubbliche per sostenere che avevamo sprecato il denaro pubblico voglio chiarire al dottor Bertolaso che noi abbiamo fatto una scelta diversa rispetto a Milano che lo sento ogni volta cercare di equiparare le situazioni non sono equiparabili noi in Campania abbiamo fatto una gara pubblica per i nostri ospedali e abbiamo realizzato i 120 posti di terapia intensiva dentro i plessi ospedalieri non a chilometri di distanza quindi mi limito a dire che abbiamo situazioni diverse da non confondere abbiamo assunto 3.000 persone in più perché abbiamo una sottodotazione drammatica di personale drammatica dopo 10 anni di commissariamento abbiamo fatto la corsa per varare concorsi che spesso sono andati deserti soprattutto per la ricerca di anestesisti di pneumologi di infettivologi quando abbiamo fatto concorsi per la medicina urgenza cioè per i pronto soccorsi e per il covid non si è presentato nessuno abbiamo preso ripeto le misure in anticipo per le scuole per i ritorni dall'estero abbiamo fatto l'acquisto dei nostri vaccini ad aprile prima regione d'Italia è cominciato la campagna di vaccinazione a inizio ottobre siamo passati da 5.000 tamponi massimo al giorno vi ricordo sempre che in quel periodo i tamponi venivano distribuiti ancora oggi vengono distribuiti dal commissario nazionale siamo arrivati oggi a fare quasi 20.000 tamponi al giorno arriveremo a 25.000 abbiamo realizzato 56 USCA meno di quelle previste dal decreto di marzo ma con il personale che avevamo a disposizione abbiamo fatto un miracolo le USCA sono le unità che dovrebbero stare sul territorio fare l'assistenza domiciliare oltre questo è stato impossibile andare per mancanza di personale bene in questa situazione abbiamo fatto un miracolo perché ad oggi la regione campania siamo arrivati a 600 persone decedute ma rimane fra le grandi regioni quella che ha un quarto minimo o un ventesimo un trentesimo dei contagi che abbiamo avuto in altre regioni d'Italia e stiamo stiamo dando l'anima per cercare di difendere questo dato straordinario che ha la Campania ancora oggi ultima fra le grandi regioni per il numero di decessi quando si è riaperta l'epidemia da qualche settimana abbiamo chiesto alla protezione civile l'invio di 600 medici 800 infermieri ad oggi sono arrivate poche decine di persone oggi abbiamo registrato 3.186 positivi su 18.650 tamponi stiamo facendo uno sforzo enorme in questo momento per essere in grado di inviare a tutti i nostri concittadini un sms nell'arco di massimo 24 ore con cui comunichiamo l'esito del tampone positivo o negativo cercheremo di farlo anche in 12 ore siamo oggi credo al 60% dei tamponi fatti per i quali viene comunicato via sms qui abbiamo un problema ho detto ai nostri laboratori che devono fare i tamponi solo a chi comunica il proprio sms c'è gente che si presenta non comunica il numero del cellulare o dà il numero fisso o fa finta di dimenticarsi abbiamo un altro fenomeno negativo sapete che abbiamo utilizzato anche laboratori privati ma ci segnalano che alcuni laboratori privati fanno i tamponi ma non comunicano all'asli il risultato dei tamponi perché c'è qualcuno che non vuole apparire come positivo quando è asintomatico preferisce non farlo sapere perché magari va a fare il lavoro nero abbiamo investito i carabinieri per fare gli accertamenti questo è un reato per il gestore del laboratorio privato e faremo di tutto per combattere questi comportamenti irresponsabili abbiamo registrato ancora oggi fra 74 e 68 contagi fra i bambini 0-5 anni è il motivo per cui chiudiamo anche la scuola d'infanzia abbiamo verificato che i bambini più piccoli proprio perché non possono mantenere la mascherina proprio perché non possono mantenere il distanziamento sono diventati dei vettori di contagio per le famiglie terribili anche asintomatici ovviamente a volte i bambini non hanno niente ma contagiano in maniera spaventosa stiamo lavorando dunque per i tamponi stiamo lavorando per moltiplicare i posti di terapia intensiva il dato delle nostre terapie intensive è quello che vi abbiamo già comunicato noi abbiamo oggi disponibili 250 posti di terapia intensiva abbiamo la metà di posti liberi un 40% di posti liberi devo chiarire ancora una volta a scanso di altre aggressioni mediatiche che noi aumentiamo la disponibilità di terapie intensive a mano a mano che cresce la domanda di terapie intensive per non avere personale spostato nelle terapie intensive a non fare niente abbiamo oggi un livello straordinario di terapie di vaccinazioni abbiamo fatto ad oggi quasi 700 mila vaccinazioni e consegnato alle asla ai medici medicina generale un milione e 85 mila dosi e stiamo continuando a fare campagne di vaccinazioni mirate nelle residenze sanitarie per anziani e abbiamo già consegnato 19 mila dosi alle farmacie anzi le consegniamo dal primo novembre chiedo scusa quindi avremo la possibilità anche per qualche privato cittadino di fornirse direttamente abbiamo una condizione di stress per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri e i posti letto negli ospedali non le terapie intensive faccio un passo indietro vi do i dati comparati che avevamo a marzo cioè nel picco del contagio di primavera e che abbiamo oggi a marzo la punta più alta di ricoveri è stata di 622 ricoveri ospedalieri già oggi abbiamo 1300 ricoveri il doppio avevamo a marzo 4000 positivi oggi ne abbiamo 40.000 molti moltissimi asintomatici ma voglio chiarire che gli asintomatici contagiano non è che l'asintomatico non sia un problema non ha magari lui il problema ma se va in giro diffonde il contagio siamo passati da 4000 a 40.000 perché come ha ripetuto parecchie volte il professore Massimo Galli che è fra le persone più competenti d'Italia ma che ha anche una caratteristica molto rara quella di essere un uomo libero avendo aperto l'Italia e rimescolato le carte in pratica abbiamo uniformato tutto il paese e quindi scontiamo questa diffusione ormai generale per quanto riguarda le terapie intensive la punta massima di ricoveri che abbiamo avuto a marzo era di 135 pazienti in terapia intensiva già oggi abbiamo 164 ricoveri in terapia intensiva e vi ripeto non siamo a livello più alto di contagio il peggio deve ancora venire con la stagione influenzale e con l'inverno dunque noi ci stiamo preparando a triplicare i posti di degenza e a triplicare i posti delle terapie intensive ne abbiamo ad oggi già pronti per eventuali urgenze 530 aspettiamo ovviamente i medici anestesisti che abbiamo chiesto per poter aprire anche una quantità importante di terapie intensive ora qual è il problema noi per trovare questi posti letto cioè noi dobbiamo trovare 100 posti letto al giorno in più ma questa ricerca non può essere illimitata noi abbiamo sospeso tutte le attività secondarie manteniamo aperte le attività salvavita oncologiche cardiologiche neurologiche i punti nascita ovviamente ma abbiamo dovuto sospendere tutto per utilizzare i departi per le degenze si è lavorato per destinare alcuni ospedali ad ospedali covid eliminando altri servizi voglio chiarire che ovviamente si sono fatte scelte dolorose ma indispensabili quando tu arrivi di fronte a questa alternativa o riorganizzi anche i reparti e crei ospedali covid oppure hai i malati per terra e rischi di avere tuo padre o tua madre che rimane a morire in un'ambulanza in un'ambulanza perché non c'è un posto letto in ospedale o facciamo queste scelte o rischiamo di avere quelle conseguenze drammatiche vorrei che questa alternativa fosse chiara a tutti quelli che parlano allora si sono fatte alcune scelte che voglio chiarire subito sono scelte transitorie mi ha chiamato il sindaco di Cava dei Tirreni è chiaro che appena passa l'onda del covid gli ospedali ritornano alle funzioni originarie la stessa cosa accadrà a Solofra la stessa cosa all'ospedale di Ariano il Pino appena finisce si ritorna alle funzioni originarie ricordo ad Ariano che il Dea di secondo livello rimane in piedi e lo abbiamo realizzato noi non le chiacchiere di qualcun altro lo dico perché non manca mai qualcuno ad Ariano che deve fare demagogia ne approfitto ancora per salutare e ringraziare i cittadini di Ariano il Pino per la prova di civiltà e di senso di responsabilità che hanno dato hanno fatto una cosa straordinaria la stragrande maggioranza dei cittadini di Ariano si è sottoposta al tampone al controllo sanitario non è accaduta la stessa cosa ad Arzano abbiamo creato la zona rossa in un comune importante nella provincia di Napoli e si sono presentati a fare il tampone solo 5.000 abitanti abbiamo ad oggi ad Arzano mille positivi ad Arzano mille non va bene non va bene ci sono troppi cittadini che hanno voluto sfuggire al controllo sanitario è una cosa francamente demenziale oltre che irresponsabile probabilmente alcuni che sono asintomatici cercano di sfuggire al controllo sanitario per andare a lavorare e così diffondere il contagio anche fuori del comune non va bene non è responsabile non è civile questo comportamento quindi vi invito ancora a rivolgervi alle ASL e a farvi i controlli necessari perché se è il caso dieci giorni di isolamento domiciliare non sono una tragedia ma evitate di diffondere a macchia d'olio il contagio anche nei comuni vicini ho chiesto al direttore generale dell'ASL Napoli 3 di verificare con la massima attenzione le possibilità che ci sono su Nola perché sta ragionando l'ASL sulla trasformazione dell'intero complesso in ospedale covid perché nella Napoli 3 abbiamo un livello alto di contagio nella giornata di oggi abbiamo 600 600 e 600 contagi nella Napoli 1 2 3 400 a Caserta e 240 in provincia di Salerno ma ormai si sta diffondendo un po' su tutto il territorio regionale anche Benevento ed Averlino ho chiesto al direttore di fare la verifica più attenta possibile avendo fatto un accordo con le case di cura private spero di non ritrovare altri articoli di giornali mi hanno detto che ieri su un organo di informazione nazionale c'era un'altra campagna si utilizzano i posti privati delle cliniche private bene se qualcun altro in grado di costruirli con il lego i posti letto negli ospedali li venga a realizzare in Campania o in altre parti d'Italia è qualcosa di sconvolgente veramente in Italia in questo momento emerge il meglio e il peggio del nostro paese quindi avendo fatto l'accordo con i privati ho chiesto al direttore generale a Napoli 3 di verificare fino all'ultimo se è possibile evitare perché è chiaro che qualche disagio si crea poi valuterà in piena libertà e in piena coscienza le situazioni se ce la fa a utilizzare anche realtà private si potrà evitare di fare questa scelta ma se dobbiamo avere i morti per terra perché non c'è un posto in ospedale farà le scelte che in piena coscienza riterrà di dover fare abbiamo due altre zone rosse marcianise orta diatella in provincia di caserta ma abbiamo dovuto verificare ovviamente la ridotta disponibilità delle forze dell'ordine per i controlli abbiamo comuni a volte enormi in regione abbiamo decine di strade di accesso evidente che non si può controllare tutto questo dovrebbe convincere tutti quanti i nostri concittadini a comportarsi come se già si fosse chiusa l'Italia rimanere in casa evitare movimenti inutili spostamenti inutili anticipiamo noi quello che si sta facendo in Francia e in Germania facciamo quello che facevamo a marzo anche se non ci sono decisioni formali perché la situazione è maledettamente delicata mi permetto di chiedere un contributo ulteriore ai medici di medicina generale ci sono alcuni medici di famiglia che hanno fatto uno sforzo eccezionale per le vaccinazioni 500 600 persone vaccinate altri medici meno vi chiedo di darci una mano sia un aiuto per il controllo domiciliare sia un aiuto per completare il piano delle vaccinazioni manteniamo un'attenzione straordinaria per le residenze sanitarie assistite questa deve essere una nostra priorità ora voi sapete che in Campania abbiamo realizzato ed è un unicum in Italia in queste proporzioni un piano socio-economico di aiuto alle categorie economiche in questi giorni ci sono state anche delle manifestazioni alcuni sono venuti anche davanti alla sede della regione io capisco che siccome la regione è l'unica istituzione che esiste qui il resto capisco che la gente si rivolga all'unico interlocutore che è presente non c'è problema non c'è problema anche ad esprimere il malessere ma c'è problema se qualcuno pensa di fare sciacallaggio politico o non questo non è tollerabile spero che le categorie economiche vogliano esprimere gratitudine e ringraziamento alla regione campania per l'aiuto che hanno avuto e siamo stati l'unica istituzione a dare alle categorie economiche non i sospiri e la solidarietà ma un aiuto economico a volte nel giro di due e tre settimane allora risparmiamoci qualche sceneggiata assolutamente inutile nessuno venga a mettere le tovaglie con i piatti sopra è una sceneggiata che è stata organizzata a livello nazionale qui non c'è motivo di farlo qui probabilmente chi ha messo la tovaglia avrebbe dovuto venire a dire grazie alla regione campania riceviamo questa mattina una delegazione di tassisti voglio ricordare che abbiamo dato 2.000 euro ai tassisti e agli autisti di NCC 2.000 euro a 4.104 persone che hanno richiesto il contributo unici in Italia abbiamo oggi un problema a Napoli 120 scuola bus fermi ho scoperto che a Napoli c'è una situazione incredibile unica in Italia cioè questi lavorano a carico delle famiglie non c'è il trasporto comunale per i bambini e l'elementare scuola dell'obbligo no sono 120 pullman con una delibera del comune anni fa sono stati dichiarati una categoria di NCC stagionali per non creare problemi con i tassisti ma sono a carico delle famiglie quindi se non funzionano le scuole non prendono i soldi dalle famiglie era un'altra novità che mi mancava allora voglio dire a tutti quanti che non c'è problema avremo rispetto per la sofferenza e per il malessere dei cittadini ma nessuna sceneggiata e nessuno sciacallaggio quando andate di fronte alla regione mi permetto di chiedervi di dire grazie tanto per cominciare mi è capitato di vedere in queste settimane alcuni che protestavano contro il decreto nazionale e qualcuno una aveva un cartello contro De Luca prontamente ripreso dai telegiornali del gruppo Mediaset mi sono commosso mi sono commosso e dai e dai ma non le fate queste cose ma sono talmente scoperte che vi coprite di ridicolo allora ascolteremo tutti quanti ascolteremo tutti quanti ma in un clima di rispetto e soprattutto noi faremo l'unica cosa concreta che possiamo fare oggi cioè verificare che le cose scritte dal governo nel decreto siano rispettate in questo mese nel mese di novembre perché molta parte della sfiducia dei cittadini degli operatori economici nasce anche dal fatto che non si fidano del governo perché spesso tanti impegni sono stati completamente disattesi voglio ricordarvi infine quello che diceva Seneca diceva Seneca i dolori lievi sono loquaci i dolori grandi sono muti a volte quelli che fanno sceneggiate sono gli ultimi che dovrebbero farle sono persone che non c'entrano niente neanche con la crisi sociale quelli che soffrono davvero sono a volte persone che non hanno né il tempo né la voglia per andare a fare cose in mezzo alle strade che servono semplicemente questi assembramenti a moltiplicare il numero dei contagi fra quelli che hanno fatto questa iniziativa e fra due settimane troveremo centinaia di contagiati covid noi saremo vicini a quel 90 per cento di operatori che soffrono e magari non si fanno neanche sentire vi posso garantire che vi saremo a fianco come abbiamo fatto a primavera faremo tutto quello che è umanamente possibile per non lasciarvi da soli al 90 per cento delle persone per bene serie civili corrette che vivono grandi difficoltà ma che ci chiedono solo un aiuto che noi daremo per quanto umanamente possibile ho finito fatemi fare gli auguri a Maradona per i suoi 60 anni è un genio del pallone spero che si curi un poco di più l'ho visto un po' scombinato in qualche immagine ma credo sia doveroso mandargli un augurio affettuoso per i suoi 60 anni un augurio affettuoso di altro tipo all'ingegnere Cianciulli titolare di un'azienda irpina H Software che ha ricevuto un premio come prima azienda al mondo per un software destinato alla progettazione integrata in edilizia la progettazione BIM non mi dilungo nelle cose tecniche c'è questo sistema di progettazione integrata per il quale questa azienda H Software che ha aperto una sede nuova bella splendida a Bagnolo Irpino è stata premiata come prima azienda al mondo gli auguri al dottore Cianciulli e se ci si consente anche una punta di orgoglio per tutti noi campani si sta lavorando alla preparazione di un vaccino sotto la direzione del dottore Ascierto del Pascale d'intesa con lo Spallanzani credo di Roma e un altro ospedale di Milano capofilo di questa ricerca il dottore Ascierto si sta lavorando per la produzione di un vaccino anti-Covid che interviene sulla sequenza genetica del cittadino è una una ricerca di avanguardia che speriamo possa produrre risultati in tempi rapidi e voglio anche dirvi che stiamo lavorando in tutto questo pensando al futuro pensando a quando usciremo dal Covid pensando a non far morire la fiducia la speranza c'è un gruppo di imprenditori campani che sta lavorando alla produzione di un prototipo di aereo per il corto raggio a propulsione elettrica è in corso questo lavoro daremo una mano come regione campania ci sono imprenditori da noi che guardano al futuro e che avranno da noi tutto il sostegno che meritano nel campo delle produzioni industriali nel campo della ricerca abbiamo presentato un pacchetto di progetti che riguardano l'assetto idrogeologico al governo nazionale stiamo cercando di anticipare i tempi sono alcuni progetti che riguardano l'assetto idrogeologico in modo particolare nel Cilento stiamo non distraendoci quindi stiamo cercando di lavorare anche sulla preparazione dei progetti esecutivi per avere la possibilità di impegnare per tempo tutti i fondi europei guardiamo al futuro e cerchiamo di creare questo futuro per i nostri figli allora manteniamo i nervi saldi per quello che ci riguarda pure in una situazione gravissima lavoriamo con tranquillità vi posso garantire che saremo all'avanguardia anche nelle misure sanitarie per quanto drammatico possa essere il quadro ma è evidente che a questo punto forse il governo italiano possa prendere in considerazione qualcosa che dicevo un mese fa forse forse è arrivato il momento di fare qualche scelta coraggiosa e lo ripeto di carattere nazionale non territoriale vediamo nelle prossime ore quello che succede ma dovete sapere e deve sapere il governo che ogni ora che passa ci avviciniamo al momento nel quale potremmo essere costretti a decidere con l'acqua alla gola se avessimo fatto quello che qualcuno di noi proponeva un mese fa forse avremmo davvero salvato il Natale il mese di dicembre che è il mese dal punto di vista commerciale turistico più interessante ottobre non era un mese di grandissima effervescenza da questo punto di vista vediamo quello che succede nelle prossime ore noi continueremo a fare il nostro dovere e a dare l'anima per garantire ai nostri concittadini sicurezza tranquillità sanitaria anche con scelte dolorose e una prospettiva una speranza di lavoro e di futuro come abbiamo fatto nei mesi passati aiutateci con comportamenti rigorosi state a casa evitate spostamenti inutili mettetevi questa maledetta mascherina sempre un saluto cordiale a voi e alle vostre famiglie a voi a voi a voi Grazie a tutti.